Tu come lo fai, tu come lo fai, questa è la tua terra, dimmi tu come lo fai, tu come lo fai, tu come lo fai, anche una formica vede tu come lo fai. Buongiorno, che cosa vi presento oggi? La steel can, dei semplicissimi barattolini da 400 grammi di pomodori in acciaio che lavorati in una certa maniera diventano note. Una cosa importante è anche come si devono battere, io utilizzo delle bacchettine cinesi ma vanno bene anche due penne, ma come si costruisce? Si prende una bacchetta di legno che serve per deformare leggermente il fondo del barattolo, sia dall'interno che dall'esterno a seconda che vogliate cambiare la nota più acuta o renderla più grave, cioè più bassa. Quindi fatto questo lavoro un po' certosino perché dovete cercare le note, otterrete tante note diverse. Più sarete bravi più ne riuscirete a ottenere. Una piccola curiosità è che i barattoli hanno una storia di 200 anni, furono inventati dagli inglesi per trasportare alimenti durante i periodi di guerra. Oggi noi invece i barattoli li ricicliamo completamente perché l'acciaio in Italia oramai viene prodotto solo con materiali riciclati. Ora voi potete decidere se conservarli e fare una bella steel can o se buttarli nella differenziata e quindi avviarli al processo di riciclato. Detto questo io vi invito a provare a fare la steel can, a costruirla. Se volete consigli sono sempre a vostra disposizione, scrivetemi. Capone su tu come lo fai, yo! A proposito, ma tu come lo fai?